Giaccherini, in aria Giaccherini, Castellazzi lo chiude, poi Maicon deve allontanare, che brivido e che opportunità per Giaccherini. Qui Lucio dalla distanza con Antonioli che blocca il pallone senza difficoltà. Il Cesena avanti con Jimenez, contro due avversari, sul fondo Jimenez, forte Castellazzi, tocca ma non la tiene, poi contatto in aria, qui non è una gattola che può allontanare. Attacca il Cesena, Giaccherini, bene per Ceccarelli, c'è Budan a centro aria, il cross è per lui, tutti a luogo e Budan segna il gol del vantaggio del Cesena, Igor Budan all'undicesimo minuto. Sembra fuori gioco. Parte Maicon, pallone finisce in porta, ma la palla aveva superato la linea di fondo. Il cross di Maicon in aria, il colpo di testa di Pazzini che non trova il bersaglio, pallone largo. Malunga prova a passare sulla linea di fondo, Malunga stoppato al momento del tiro. I fischi della Manuzzi per l'attacco dell'interetto, teso in aria, Pazzini! Che grande gollo, Giampaio Pazzini, 1-1. Chiama al pallone Maicon che arriva a sostegno, riceve il brasiliano, altro cross in aria, ancora Pazzini! Pazzini, un altro grandissimo gollo! Donetti lo recupera, è l'intero avanti!